in questo videogioco picchiaduro incontri red hurt il nostro amico ninja kenji ha eliminato gigi bene mi sa che vi devo salutare ragazzi vi saluto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace ma ricordatevi che ho già recensito sul canale il livello bonus di red hurt andate a vederlo se non ve lo ricordate